Avremo una nuova legge per il voto italiano all'estero dove gli italiani risparmieranno tante risorse, perché non manderemo più 6 milioni di lettere che poi vengono restituiti 1.200.000, 1.500.000. È nel contratto di governo, così che io spero che l'anno prossimo sia l'anno dove venga approvata una legge del voto nuova, una modalità nuova per il voto italiano all'estero e che il Parlamento sia protagonista di questo dibattito, che secondo me sarà una legge di iniziativa parlamentare.